Musica Voltiamo decisamente pagina per parlare di una ferita che ha colpito la nostra città, ma soprattutto una mamma. Parliamo della storia di Giovan Battista Cutolo, che è promettente musicista, membro dell'orchestra scarlattica Mera Young. Giovan Battista, come ben sapete, ha soli 24 anni, è stato barbaramente ucciso con un colpo di pistola alle prime luci dell'alba di giovedì 31 agosto in piazza Municipio, nel cuore della città. Una storia che ha sconvolto veramente tutti noi e sono davvero commossa e in qualche modo anche emozionata di avere qui negli studi Daniela Di Maggio, madre di Giovan Battista, per tutti GioGio. Bentrovata Daniela, è davvero una forte emozione per me averla qui a mattina live. Prima di tutto, come sta? Buongiorno a tutti e come sto? Sto ancora in una forte ipnosi, ancora non ho elaborato, cioè non sono neanche entrata nell'elaborazione del lutto perché poi da quando è morto mio figlio, ovviamente ognuno di noi, io, mia figlia, il mio ex marito, gli amici stiamo cercando in qualche modo di riposizionarci nel mondo. Non è facile, però per tutto quello che sta seminando la morte di GioGio da quell'orribile 31 agosto, almeno ci tiene in una forma di vita perché GioGio sta seminando bellezza, sta diffondendo legalità, sta scuotendo gli animi, ci sono tante manifestazioni in suo nome, gli hanno dedicato addirittura una targa al conservatorio, dedicate aule, borse di studio e tutto questo ovviamente è un piccolo balsamo, una piccola goccia di balsamo su una ferita enorme. Giovanni Battista amava la musica, aveva dei sogni grandi da realizzare, è veramente un figlio modello, tanto si è detto e scritto, ma chi era GioGio? Allora io lo dico sempre, GioGio era quello che si è visto al suo funerale, un ragazzo amato da tutti, perché era un punto di riferimento proprio perché era pieno, pieno, pieno di gioia, di generosità, era sempre entusiasta, aiutava anche i suoi amici che stavano un po' giù di morale, lui aveva sempre la parola giusta, GioGio componeva musica, GioGio voleva anche essere un bravo cuoco, un bravo chef, infatti andava con gli amici in un ristorante a fare l'aiuto chef, si interessava a qualsiasi cosa, era affamato di vita ed era una persona veramente pulita, con una coscienza profumata, questo era GioGio e io dico sempre in tutte le interviste, mio figlio quando ha aiutato il suo amico in quell'orribile serata per proteggerlo da quella balordaggine di quel gruppo e dal suo killer, non avrebbe mai immaginato che quella persona potesse estrarre una pistola e quello era GioGio, GioGio dentro di sé, il seme della violenza non ce l'aveva, per questo ha reagito, per aiutare il suo amico perché mai poteva immaginare che qualcuno avesse una pistola addosso, non era proprio nel suo concept. Una notte, un'alba che hanno sconvolto le vostre vite, oltre alla sua famiglia, chi le è vicino in questi giorni? Allora, chi mi è vicino in questi giorni? Diciamo che la mia famiglia, i miei amici, gli amici di mio figlio soprattutto perché loro sono un grande punto di riferimento, perché loro cercano me in quanto in me vedono GioGio e io cerco loro perché in quanto loro io vedo GioGio e quindi questa è una cosa che in questo momento ma in maniera blanda ma in significativa ci sta dando coraggio e mi sta dando forza perché io gli amici di mio figlio li reputo come i figli che sono rimasti da tutelare e loro meritano che io sia ancora battagliere e combattente proprio per il loro futuro. Daniela, subito c'è stato un grande clamore mediatico, quindi tutto intorno a lei, nelle prime settimane dalla scomparsa oggi ha paura che si spengano un po' le luci su Giovanni Battista in qualche modo e che vada tutto nell'oblio il suo sacrificio? Allora guardi, io so per certa che l'aspetto mediatico ha delle regole sicuramente ci sarà il momento in cui si spegneranno i riflettori ma questo a me non interessa perché intanto il cuore di mio figlio, lo spirito di mio figlio non si spegnerà mai e sicuramente la città di Napoli qualche dimostrazione importante ce la deve non solo con l'associazione Giorgio Vive che adesso inizieremo a portare avanti proprio per creare sul territorio prevenzione attraverso la musica ma soprattutto perché mio figlio resterà sempre vivo vivo nei cuori degli amici, vivo nella musica, vivo nella sua famiglia e non è l'aspetto mediatico che rende viva una persona assolutamente no, saremo noi individui che lo renderemo continuamente vivo e soprattutto io mamma Daniela che per sempre farò in modo che mio figlio non venga dimenticato Daniela personalmente io credo che tu hai una grande lucidità nell'analisi anche sociale di questa città ci siamo incontrati in un'altra circostanza e mi colpì molto in quell'occasione la tua mancanza proprio di non oggettività quindi questa facoltà di oggettività nell'interpretare l'accaduto che è un accaduto gravissimo con un dolore del genere mantenere salda la ragionevolezza è importante in qualche modo ma perché restare a Napoli? Allora sinceramente io Napoli adesso ma anche prima Napoli per me era diventata una matrigna perché era una città troppo violenta troppo disturbata dal brutto, dalla violenza, dalla droga da queste baby gang che hanno preso il sopravvento io sinceramente a Napoli ci resto soltanto se porto avanti il progetto dell'associazione Giorgio Vive perché do un senso a questa grande insensatezza e per questo ho chiesto anche alle istituzioni di farmi incontrare il nostro procuratore Gratteri perché io tengo molto ad incontrarlo e a cercare insieme a lui di creare un osmosi perché anche io a Gratteri per essere stata proprio come dire vittima di una tragedia così immane posso dare una visione uno spaccato a lungo raggio su quelle che sono anche le politiche da attuare sul grande dramma della delinquenza giovanile quindi sono queste le cose che mi spingeranno a rimanere a Napoli altrimenti non avrebbe senso perché Napoli è una città che si è rubata mio figlio se l'è proprio rubata Daniela ricordiamo anche della battaglia che hai compiuto sei soddisfatta del risultato? Allora Diletta io sono soddisfatta fino a un certo punto perché purtroppo la materia della legge sui minori è una materia molto scottante perché noi italiani siamo anche genuflessi a delle regole europee alla Corte dei Conti e tutto quanto però nel decreto Caivano sono passati dei decreti importanti specifici che sono stati messi anche sul Sole 24 Ore su tutti i giornali con il nome GioGio perché erano state alcune di quelle richieste che io avevo assolutamente voluto a tutti i costi che passassero perché con questi nuovi decreti che sono stati attuati appunto nel decreto Caivano il decreto GioGio almeno il minore che commette dei crimini efferati che sono crimini da adulto come quello successo nei confronti di mio figlio non verrà messo alla prova e non avrà come dire l'attenuante di stare in una casa famiglia dove imparerà a fare il pizzaiolo e poi dopo uscirà e ucciderà altre persone perché questa messa alla prova abbiamo capito che veramente è stata deleteria perché nel caso del killer di mio figlio lui che era già stato messo alla prova con un tentato omicidio abbiamo visto che praticamente non è servita perché poi ha ucciso brutalmente mio figlio se avessi l'opportunità di avere l'assassinio di tuo figlio in questo momento di fronte che cosa gli diresti? gli direi che deve imparare ad empatizzare il dolore e per farlo deve scontare tutta la pena chiuso in un luogo dove deve scendere nella sua coscienza e capire il male in mane che ha fatto non solo a togliere dal mondo un ragazzo meraviglioso come mio figlio e lui non meritava neanche di respirare la stessa area di mio figlio ma ha ucciso anche i suoi amici ha ucciso me, ha ucciso il padre, la sorella ha ucciso una comunità intera perché non crede più nella legge non crede più nella giustizia e questo è il grande errore enorme, micidiale che ha commesso questa persona brutale che ha ucciso mio figlio ma uno strappo del genere si può ricucire? si può perdonare, Daniela? no, perdonare lo può fare soltanto un santo lo può fare Cristo, io sono una donna bassa sono una donna di materia non sono una santa non potrei mai perdonare una persona che mi ha ucciso un ragazzo meraviglioso come mio figlio che lo perdonasse il papa mentre fa le sue leggi su tante cose sul sociale che è lui che lo può perdonare ma non certo Daniela Di Maggio ma non lo perdoneranno neanche gli amici di mio figlio neanche sua sorella, suo padre nessuno può perdonarlo perché è stato un criminale disgustoso, schifoso l'ha ucciso senza motivo e mio figlio avrà anche la medaglia d'oro al valore civile perché è un ragazzo che per aiutare un amico è stato brutalmente ucciso cosa si può perdonare, Diletta? Daniela, tu ti stai battendo anche per una regolamentazione molto importante di social mezzo che se usato in modo negativo appunto alimenta un sistema una mentalità malavitosa conoscere per quindi limitare ma come filtrare e sanzionare poi ed eventuali anarchie? Allora guarda ci vuole un controllo veramente capillare su questa cosa perché i social oggi non lo dico solo io l'ha detto anche il nostro procuratore Gratteri i social sono diventate la forma più importante ed immediata per le mafie, per i malavitosi per i killer, per i baby killer proprio per esternare il loro male e per loro è diventato come dire uno strumento importantissimo poiché i social sono virali questa è la pericolosità perché altre persone prive di coscienza possono prendere le stesse abitudini e gli stessi esempi di queste persone veramente disturbate e prive di bene ma dediti al male tra l'altro tu non hai fatto anche ci vuole un controllo molto specifico perché si possono oscurare i siti quando si vuole si possono oscurare tant'è vero che c'è stato un episodio molto brutto proprio perché un video del killer di mio figlio dalla prigione è stato utilizzato dalla zia per esternare appunto come stesse bene il nipote e che tutto passasse il nipote non sta bene perché il nipote deve sapere che ha ucciso un ragazzo meraviglioso e quel video è stato oscurato perché era proprio contro la dignità e la giustizia nei confronti della nostra famiglia e della vita di tutti non si può mettere in video uno schifo del genere tra l'altro tu non hai fatto mistero di attaccare anche delle serie televisive che inneggiano alla camorra ma può essere questa escalation di violenza solo responsabilità delle fiction secondo te allora io non le ho attaccate in maniera diretta io ho detto che quel tipo di narrazione attecchisce su gente priva di coscienza perché anche io da ragazza ho visto la piovra no ma non per questo sono diventata una camorrista il problema è che bisogna capire che se noi ci troviamo di fronte ad una società dove i ragazzi non sono abituati ad avere una coscienza critica vivono per la materia vivono per la violenza se tu gli fai vedere solo ed esclusivamente dei palinzesti che inneggiano la violenza fa in modo che questi la imitino come proseguirà la tua battaglia Daniela? proseguirà che continuerò su questi piani su questi argomenti perché ecco qui non deve calare l'attenzione anzi io ringrazio anche Canale 8 che ci tiene molto a portare avanti insieme a me questo tipo di battaglia per cui quante più volte possiamo mettere in video queste richieste è fondamentale perché non bisogna assolutamente abbassare la guardia su queste cose Daniela noi ti ringraziamo veramente per essere stata stamattina in nostra compagnia e di averci portato la tua amara diciamo testimonianza grazie a voi noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti